bella ragazzi benvenuti al mio ottavo episodio rotto commander è già l'ottavo siamo se già calcolando che è il primo giorno che ci gioco quindi volete fare una settimana però ma come avevo promesso userò il cecchino su tutti contro tutti però come vedo già stiamo uno già sta 8 kg vediamo un po di usare ecco perfetto è italiano ump è una quasi automatica come cosa italiano ump o camper madonna quanto mira veloce però mi era troppo veloce hanno semplificato sono riuscito a semplificare i quick the modern the modern warfare 2 e la sei forte dottor rap sei veramente forte si l'hanno veramente velocizzati forse troppo ricordate quanto mira veloce cos'era l'ho esploso tutto alla cassa trappola diciamo che da cod 4 i quick sono stati veramente trasformati in maniera paurosa che cazzo se urla questo quindi siamo passati da cod 4 che erano diciamo forse più difficili da fare secondo me rispetto agli altri cod a parte black ops che ha black ops black ops non so qui che fanno sono semplicemente schifo e diciamo che cod 4 c'è sicuramente mio preferito per quanto guarda i quick è modo wolf 2 senza dubbio diciamo che è il cecchino più divertente da usare vedremo questo come andrà ma da quel che vedo a parte che ce n'è anche un altro di cecchino che è quello simile a l'intervention lmsr tipo credo che si chiami è da vedere quello veramente com'è da vedere quello più di questo perché credo che sarà quello di riferimento diciamo di cecchino no cazzo non è stato no vaffanculo anche una allicottero vabbè però quello sta a 15 già vaffanculo se riesco a recuperare mi pagate una pizza margherita grazie dj peppy non me ne frega niente non raccolgo dai ho preso però porca è da dietro ovviamente sempre quello mp sempre lo stesso il culo mazza quanto mira veloce hanno un po' esagerato sono che cazzo si spara questo dove è andato ne lo fa perso non c'è più però c'è interferenza in zona lo lecco loco siamo avanti indietro sicuro ecco dottore guarda non muore vaffanculo ho quasi recuperato no merda non deve fare chi però non si prendono hit marker eh da quel connotato hit marker ovviamente non si prendono perché c'è fino a me non ho preso manco uno quindi è una cosa buona questa è una cosa buonamente buona l'hanno potenziato sembra headshot bitch qui è omi a tollo proprio dove siete dai che devo vince eh vabbè l'ho preso fanculo oh su david black eyes è stufato sta urlata in inizio partita non lo disattivo solo perché non lo voglio far sentire pure a voi c'è la gente scompare poi mi appaiono dietro questi sono veramente ninja sono dei cazzo di ninja fantasmi come ho già detto oh vaffanculo va i heads reflection come dissero i meme ecco quasi preso gli manco due kill perché quello se vede così che c'è è più nello dell'acqua atta battuta razzista sono fatto troppe battute razziste in questo momento in questo in questo rotto comando è road to razzismo puro non sono razzista però non prendetemi per un razzista no l'ho preso eh commendo c tu wow questo è come black ops che l'hanno arrivato come perca però è rimasto commando mamma mia zero hit marker ragazzi zero hit marker provatelo perché a parte forse lo dovrebbero un po' più che patchare dovrebbero vabbè ma non è mortale è mortale dovrebbero come dire come spiegarmi in parole povere diminuire la velocità di mira del del cecchino a meno di questo poi gli altri non so come se funzionino nello stesso modo però credo proprio di si perché veramente c'è mira ha una velocità supersonica guarda le casse trappola di quello stanno a fare un casino dai su è quasi finita devo vincere usp è fantastica è rimasta fantastica non mi ha ricaricato perfetto no hit marker no nel momento ho più sbagliato mi ha dato hit marker merda 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 che culo è fermo no li potevo fare headshot manca uno manca uno manca uno eccolo no lì c'ho lì c'ho ancora godo 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 tanto il grande recupero da 8 a 0 a 30 a 11 no kill cam mazza quant'è schiacciata la kill cam la madonna un po' più schiacciata vabbè la partita è finita 30 a 11 sono riuscito a lavorare a vincere col cecchino spero che vi sia piaciuto il video con nessuno a due perfetto noi ci sentiamo domani con un nuovo episodio mettete mi piace e commentate bella